Un cordiale saluto a tutti voi da Fabio Brigida, analista tecnico della redazione di Trend Online. Benvenuti al consueto appuntamento del lunedì mattina con l'aggiornamento sull'indice Fuzzimi, l'indice che in questo lunedì 25 maggio va a testare, anzi va a infrangere, area 23.500 punti in quanto in accordo con un contestuale ribasso dell'1,54% al momento verte nell'intorno di area 23.400 punti. Quindi abbiamo superato verso il basso, quindi a ribasso quel riferimento spartiacque per un potenziale a lungo verso area 24.000 e un potenziale di ritorno verso area 23.000. Quindi in accordo con l'estensione di questa candela corrente, anche se siamo appunto solo nella prima ora di contrattazioni, questa candela sembra appunto ben indirizzata a protrarsi verso il basso. Infatti ai prezzi di massimo coincide il livello di apertura, mentre al momento i prezzi di minimo sono praticamente all'intorno dei livelli correnti. Quindi una candela ribassista la quale potrebbe spingere i prezzi almeno fino al test di area 23.000 punti non dico quest'oggi ma nel corso delle prossime giornate. Quindi al momento siamo comunque sempre all'interno di un range laterale molto ampio, range che ripeto ha come barriera area 24.000 punti come supporto i 23.000 e i 22.500 punti. Quindi anche passando per mezzo dell'osservazione di un quadro tecnico attraverso candele accumulate e i kinashi possiamo apprezzare come ci sia ancora un'assenza di direzionalità. Il nostro ADX si è portato verso livelli di minimo, quindi verso livelli di minimo storico. Quindi questo significa che da ormai oltre un mese non c'è più una direzionalità ben definita sul nostro indice Fuzzini, quindi sul paniere principale delle 40 blue chip di borsa italiana. Quindi finché i prezzi, i valori dell'indice rimarranno all'interno di questi riferimenti statici, quindi 22.500-24.000 non saremo in grado di cogliere degli importanti segnali direzionali. Quindi attenzione alle operazioni che poniamo in essere sia sull'indice ma anche sui titoli che compongono questo indice. Bene, questo è tutto per l'aggiornamento odierno. L'indice è praticamente rimasto invariato dall'inizio di questo collegamento, così come tuttavia è invariata la situazione di breve corso da ormai un mese. Io vi ricordo che il prossimo approfondimento sull'indice Fuzzini è per giovedì prossimo e non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata. Io vi auguro un buon lunedì. Vi ricordo che è possibile iscriversi al canale di Trend Online semplicemente cliccando sull'icona che appare qui in basso a destra. Un cordiale saluto da Fabio Brigida.